E' tanto oceano. Tanto oceano. In avvicinamento a ore tre! Attacchi! Mio fratello pensava che io potessi fare qualsiasi cosa. Che fossi migliore di quello che sono. Continua così e finirei come un vagabondo. Allenati. Impegnati più degli altri. E vinci! Potrebbe essere il giro finale più veloce della storia delle Olimpiadi. Se resisti, puoi farcela. Tenetevi forte! Moriremo qui. Noi non moriremo! Credi che ci sia una specie di grande disegno? Perché noi siamo sopravvissuti? Una notizia buona è una cattiva. Voi siete nemici del Giappone. Verrete trattati di conseguenza. Benvenuti, più o meno. Abbiamo un atleta olimpico nel nostro campo. Guardami. Non sei niente. Quest'uomo deve imparare cos'è il rispetto. Ogni prigioniero glielo insegnerà. arrivare vivi alla fine della guerra. Questa è la nostra vendetta. se resisto, posso farcela. Colpisci mi. Forte! Avanti! Più forte! Dai! Salve, madre e padre. Sono il vostro amato figlio lui. Dopo due anni è la prima volta che sentite la mia voce. Sono illeso in buona salute. Se la fa cadere, sparagli. Auguro a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo. Non mollare. Sì. Grazie a tutti